Non dirmi che senti di nuovo quello che pensano. Com'è fatta dentro la gente? Molte persone dentro hanno la sensazione di essere separate. Separate da ogni cosa. E non è così ? Naturalmente no. Sono assolutamente parte di ognuno. E di ogni cosa. Come di ogni cosa ? Io sono parte della strada ? Parte di Zacche quando abbaglia i passanti. Mi stai dicendo che sono parte di un pescatore italiano su un mare che non ho neanche mai visto ? O di un vizio che sta nel braccio della morte. Sono parte anche di lui. Tu non mi credi. Sai, è difficile credere a tutto questo. È solo perché hai questo punto oltre il quale non sai vedere. Anche i miei nonni l'avevano. Un punto in cui si credevano scollegati da tutto il resto. Allora la gente non riesce a vedere questo. Che è parte di un tutto. E non capisce di essere bella. Non è necessario nascondersi. O mentire. Sai, è possibile. Parlare con gli altri senza dire bugie. Senza nessun sarcasmo. Nessun inganno. Nessuna esagerazione. O nessuna delle cose che la gente usa per mascherare la verità. Non conosco una sola persona che ci riesca. Mettili la tua mano. Ecco. Tira sulle dita. È il tuo cuore che batte. Anche il tuo. Beh, è molto strano. Tu hai paura che qualcuno ci stia guardando. E tu invece di parlare con me? Non ti piace abbastanza? Tu ti senti solo. Tanto solo. Qualche volta... Tu vorresti uscire fuori da te stessa. Tuo padre. Tuo padre ti ha ferito tanto tempo fa. Sei così triste. E lo sai per colpa sua. Lei credeva che tu fossi brutto. E continuava a dire che tu non eri su. Mi dispiace tanto. E tu? E tu? Io che cosa? Credi che io sia brutto? Non lo so che cosa credo quando ti guardo. Perché qualche volta io credo che tu sia il viso più bello che abbia mai visto. Che c'è. E tu? E tu? E tu? E tu? E tu? E tu? Grazie a tutti.